Domani, venerdì 24 novembre, la persistenza di un debole flusso umido meridionale determina nuvolosità diffusa, con possibili isolati piovaschi. Umidità su valori medio-alti, venti deboli, inizialmente settentrionali a Ponente, in successiva rotazione dai quadranti meridionali, deboli o localmente moderati meridionali a Levante. Mare poco mosso. Dopodomani, sabato 25 novembre, il passaggio di una perturbazione è accompagnato da precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, più insistenti su centro Levante. Fenomeni in esaurimento nel pomeriggio a partire da Ponente, dove si potranno avere schiarite anche ampie in serata. Umidità su valori alti, venti in prevalenza dai quadranti meridionali moderati o forti in particolare sui rilievi, ma in aumento fino a molto mosso. Grazie. 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 Grazie.